bello a tutti ragazzi sono anche il dello soft di noi malati di foot come sempre prima di cominciare vi ricordo di passare da vitcoins fifa se volete acquistare crediti e inserire il codice cubo amolac di 15 per avere il 5 per cento di cash in più oggi siamo nella play review di christian teo if giocatore spagnolo del porto alla destra parte da 9 overall di 80 e i valori sulla carta sono 90 di velocità 84 di dribbling 79 di tiro 29 di difesa 71 di passaggio 60 a 2 di fisico iniziamo ad analizzare la velocità con un 90 sulla carta che si suddivide appunto in 90 di eccellenza e 90 di velocità scatto è una scheggia veramente mai visti pochi 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 di giocatori quasi veloci non sia certamente però ne ho visti pochi poi si sente soprattutto anche quell'86 di agilità che permette di sfruttare quella velocità quindi non fermarsi a dublare sfruttando sempre continuando a correre si sente veramente tanto quella velocità passiamo al dribbling 84 sulla carta che si suddivide in 84 di controllo palla 85 di dribbling poi con l'86 di agilità eccetera ha 2 e 3 stelle skill allora il dribbling sta per sé il dribbling classico dribbling di giocatori così senza skill è ottimo veramente perché ha 84 di controllo palla fai fatica a togliergliela però e quindi ha un pro assoluto e anche quell'86 di tappa passa tre difensori come fossero bidilli però ha quelle solo tre stelle skill infatti è un contro le stelle skill quindi il dribbling si suddivide in un pro e un contro pro perché il pro il dribbling classico secco mentre contro il dribbling con le skill passiamo al tiro che ha un 79 di tiro sulla carta che si suddivide in 79 di finalizzazione 73 di effetto 54 di precisione posizioni 76 di long shot 54 di rigori 88 di potenza tiro e 62 di tiri al volo allora partiamo dai tiri al volo non li ho provati sinceramente perché quello 88 di potenza tiro come fai a provare i tiri cioè il tiro effetto come fai a tirare i tiri di potenza una finalizzazione a momenti va diciamo che è molto va molto a monumenti perché momenti che ti riesce infilare i gol molto difficili e altri che ti sbaglia i gol molto 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 già detto molto facili come vedrete dall'equipe e quindi a volte è pecca di finalizzazione ed è un contro i long shot non ne ho provati tanti me li hanno bloccati tutti davanti al difensore e vabbè mentre quello 88 di potenza tiro tira delle minelle sia di destra che di sinistro infatti qui entrano anche le 3 stelle work foot che sembrano di più sembrano 4 4 ci sembrano 4 anche se sono solo 3 perché lui tira delle minelle sia di destra che di sinistro arrivi davanti al portiere tira delle minelle appena arrivi davanti al portiere provi a fare r1 per angolarla e metterla dentro no no è tiri di potenza e la metti dentro tiri di precisione rischi che te la pari poi ha un 71 di passaggio che si suddivide in in oddio 76 di cross 67 di passaggi lunghi e 75 di corti e altri valori vabbè che non stiamo a dare di far tutto e mi è piaciuto sinceramente abbastanza mi è piaciuto abbastanza abbastanza perché comunque mi ha mandato due o tre volte l'attaccante in porta che era jackson martinez in quel caso si e mi è piaciuto e poi al fisico sinceramente è un 62 però non mi cadeva spesso anzi mi cadeva molto molto poco perché è alto comunque un 78 che è un'altezza molto alta quindi mi stavo in piedi vabbè 21 di difesa 1 alla destra torna in difesa perché ha un warcast medio medio quindi c'è warcast normale niente di che quindi in poche parole questo giocatore diciamo che ha poi anche un altro pro è il posizionamento perché ha un 80 sulla carta che è sempre lì sempre lì ad attaccare a ricevere palle poi con questo giocatore come vedete dalle clip bisogna prendere il gol prendere palla e farsi tutto il campo correndo per poi tirare una minella il nuovo voto è un 9 meno perché c'è comunque c'è di meglio ovviamente però comunque mi ha fatto tanti gol tanti 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 veramente tanti tipo le prime due partite mi ha fatto due triplet come avete visto sicuramente sulla pagina quindi pro velocità dribb in secco posizionamento potenza tiro contro le skill e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao